Bentornati a WL Pass Break Tecnicamente il processo di lavorazione e il lavoro completo, quanto tempo ha richiesto e in cosa è consistito? Sostanzialmente il lavoro è durato all'incirca una decina di giorni, si è trattato di smontrare completamente tutte le assi e i componenti di legno che compongono le sedute, sono state carteggiate, che giardotecnico vuol dire trattate con carta basile per trasportare gli strati di vernice vecchia e togliere gli strati e relli di legno ammalorati derivanti dall'utilizzo precedente e riverniciarli da capo con un ciclo di verniciatura adeguato che ha come finitura, quindi come ultima mano, questo prodotto con le caratteristiche antibatteriche che abbiamo descritto. Grazie a tutti!